Per la campagna Io non rischio 2020 parliamo del Piano Comunale di Protezione Civile ai tempi del Covid. Il Piano Comunale di Protezione Civile è uno strumento che utilizzano i comuni per gestire le emergenze. Il Piano di Protezione Civile, prima del Covid, prevedeva delle zone di ammassamento della popolazione in attesa di evoluzioni nei soccorsi. Tutte le aree che prima erano previste per accogliere la popolazione, ora andranno riviste in funzione del distanziamento sociale. Andranno quindi aumentate per favorire il distanziamento sociale. Immaginate ad esempio una tenda in cui prima potevano convivere più nuclei familiari, al tempo del coronavirus non è più fattibile. Ogni nucleo familiare dovrà essere destinato a una singola tenda. Tutto questo genererà nelle amministrazioni comunali un notevole dispendio di energie per trovare nuove soluzioni e nuovi spazi da destinare al nuovo Piano di Protezione Civile. Ormai siamo tutti abituati a gestire il distanziamento sociale e all'utilizzo della mascherina. La campagna Io non rischio 2020 aiuta in questo senso la popolazione.